E cosa faccio? Metto questi qua? Devo puntellarla sotto una o no? No no Non posso metterla sotto? No Troppo estremo Paolo, un tempo in un'operazione chirurgica Tutto ciò, signori, ha delle incredibili Ma contro le leggi della fisica Non so, существuario, è perfetta in testa La serpile è la vodka Non è che non è che non è che scaricare Zолотi Non è che ciò, non è che ciò Iして E' un modo E' un modo Tô Po E' un momento Tutto 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 Tiò Tutto 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 Grazie.